Beppe Grillo cambia bersaglio e stavolta prende di mira Matteo Renzi volato a Berlino giovedì scorso per incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel. Un pellegrinaggio ossequioso per l'ex comico che dal suo blog non risparmia epiteti a Rottamatore e Betino di Firenze senza alcuna credenziale se non quella scrive sarcastico di aver vinto la ruota della fortuna, il popolare gioco a premi condotto dal compianto Mike Bongiorno. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle Renzi ha imboccato la strada già percorsa da Rigor Montis e Capitan Findus e Letta che ricordano anche questo letterale la ricerca della benedizione papale dei grandi feudatari del Medioevo in ginocchio baciando l'anello sacro. Le invettive sono accompagnate da un fotomontaggio irriverente postato sempre sul web che ritrae appunto Renzi che fa il baciamano alla Merkel. Seguono i commenti sulla rete tutt'altro che garbati dei militanti pentastellati. Non possiamo morire per Berlino né fare la fine della Grecia per accontentare gli interessi tedeschi e le ambizioni dei nostri politici. Conclude quindi Grillo primum vivere con o senza euro. In verità l'ex comico sembra avere il dente avvelenato con la Germania anche per lo scarso interesse mostrato per il suo movimento. Unico paese a non avergli chiesto un incontro. Il viaggio a Berlino di Renzi è invece solo la prima tappa di un tour europeo preparato con cura dal primo cittadino di Firenze che sembra a questo punto davvero pronto a scalare la segreteria del Partito Democratico puntando dritto poi su Palazzo Chigi. Resta ancora da sciogliere la riserva e forse non sarà a settembre come preannunciato da lui stesso ma anche prima. Di sicuro il colloquio con la Merkel confermato oggi dal portavoce della cancelliera tedesca via Twitter è rimasto segreto per sole poche ore. E comunque nessuno sgarbo il Premier Letta ne era a conoscenza come precisato dal suo staff. Renzi insomma fa sul serio ma non è una novità e studia non solo da aspirante segretario Democrat ma da futuro candidato Premier. Del resto ironia della sorta era stato proprio l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema a suggerirgli un'esperienza internazionale per farsi conoscere in Europa e accreditarsi così con i principali leader europei. Per i più maliziosi solo un modo per levarsero dalle scatole consigli comunque presi alla lettera dall'ex rottamatore che ha già in agenda un incontro a Parigi con il presidente Hollande e un faccia a faccia con il britannico Cameron. L'intenzione è quella di varcare anche i confini europei con un viaggio negli Stati Uniti da Barack Obama. Di sicuro quella di Renzi sarà un'estate impegnativa. Il sindaco di Firenze batterà in lungo e largo il bel paese per capitalizzare consensi in vista della sfida congressuale tra una festa a Dem e l'altra. Il sindaco di Firenze batterà in lungo e largo il bel paese per capitalizzare consensi in vista della sfida congressuale.